Dunque tu ti chiami Asahina, giusto? Adesso spiegami perché hai scelto lei Ma scusa, osservala bene È piuttosto carina, non ti pare? Ecco, adesso parla proprio come un rapitore Vedi, io sono assolutamente convinta che il sex appeal sia un fattore importante Scusa, che cosa hai detto? La capacità di eccitare! In breve serve un elemento provocante Del resto, laddove accadono vicende strane e inspiegabili E' fondamentale che non manchi un personaggio con l'aspetto da Lolita In grado di surriscaldare l'atmosfera, no? E questo non è tutto? Piccolina, ma guarda, le tette più grosse delle mie Faccio da Lolita le tette grosse Anche questo dopo tutto è un elemento fondamentale per eccitare Io mi chiamo fuori Mamma mia, ce le ha davvero grosse La cosa comincia a seccarmi Così carina e con le tette più grosse delle mie Sei davvero pazza Guarda, sono dei meloni Che tette, vuoi provare a toccarle anche tu? Per questa volta passo Ma fammi capire Hai portato qui a Sahina perché è molto carina e minuta e ha grandi seni? Cioè, sono solo queste le ragioni che ti hanno spinto a farla venire qui in quest'aula? Esatto!